Buongiorno a tutti e a tutte, intanto che arrivano gli ultimi, cominciamo. Sapete che il primo giorno, la prima lezione ha bisogno di rendere conto un po' di chi ha permesso la realizzazione di questo corso e quindi brevemente perché siete venuti a sentire il professor Baldissare e il professor Labanca e non certo noi, ma è doveroso ringraziare e salutare chi ha permesso che questo corso, per la diciassettesima volta, è il diciassettesima, io l'ho fatti tutti e qualcuno tra di voi anche, lo riconosco di anno in anno, è il diciassettesima edizione. Oggi portano i loro saluti da distanza la dirigente del liceo Mascheroni che ci ospita in questo primo incontro, la professoressa Paola Crippa. Dico, ci ospita in questo primo incontro perché avete tutti realizzato che da venerdì prossimo le lezioni si spostano nella sala della Fondazione Serughetti La Porta. E porta al suo saluto il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, che non può essere con noi, il professor Vincenzo Cubelli. Quindi io do subito la parola all'Avvocato Salvioni dell'Associazione Amici del Museo che per la diciassettesima volta sostiene questo corso. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, un ringraziamento anche da parte mia a tutti quanti hanno operato perché si arrivasse a questo diciassettesimo incontro. Quest'anno tra l'altro è doppio perché ne avevamo avuto uno in questa primavera e questo è il secondo ciclo. Ecco, e un saluto particolare al professor Baldissara e al professor Labanca che ci onorano la loro presenza e della loro autorevolezza nel campo, nella storia in quale operano così alto livello. L'argomento conoscete, un argomento molto, diciamo purtroppo, dico purtroppo all'ordine del giorno e nello stesso tempo angosciante, come è quello delle guerre, della guerra, delle guerre anzi perché ne sono più di una, che anche in questa prima parte del ventunesimo secolo sono presenti non solo nel mondo ma anche vicine a noi. Molto vicine a noi e qualcuno pensava che, seguendo, l'abbiamo ricordato anche la volta scorsa, l'auspico kantiano, la guerra fosse abolita dal sistema di risoluzione delle controversie per richiamarci a una parte dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Ma in realtà non è così. Lo stesso Kant, in quel celeberrimo libretto del 1795, ricordava che la guerra era lo stato naturale dell'umanità e che si sarebbe potuto e dovuto farla cessare attraverso la realizzazione appunto di un sistema federale degli stati del mondo, dell'Europa allora, perché il mondo era l'Europa, ma noi diciamo del mondo oggi. E questo però, anche Kant lo prevedeva, è un'impresa finora non riuscita. E lo dimostra l'impotenza di quella che è stata, in fondo, la continuità di questo pensiero, trasferita in organismo istituzionale, in organizzazione internazionale, come dice il diritto internazionale, cioè prima la Società delle Nazioni e poi l'ONU, che non è in grado di intervenire, di evitare questi drammi. Quindi l'argomento sarà questo. È un argomento che, visto il livello degli autori, delle presenze e degli studiosi che avremo in questa sessione, sarà trattato a livello più rigoroso possibile. Perché c'è il rischio, essendo poca storia e anche molta cronaca, di essere anche, potrebbe anche essere trattato diversamente, ma sono sicuro che non sarà così. Quindi un ringraziamento a tutti e un augurio di buon ascolto, di buon lavoro e con l'auspicio che dopo la diciassettesima arrivi anche la diciottesima e via discorrendo, riunione e incontro di questo genere. Grazie. Diciamo un applauso finale collettivo, così ecco, ora la parola a Silvana Gazzi del Museo delle Storie di Bergamo. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della direttrice della Fondazione Bergamo nella Storia, Roberta Frigeni e dell'amministratore delegato Marco Ghisalberti, che non hanno potuto intervenire. Vi ringrazio anch'io per la numerosa partecipazione che ci dà conferma di quanto il corso sia aspettato, desiderato, soprattutto, ma non solo, dai docenti di storia, che pensiamo sentano la necessità di avere uno spazio di confronto e di formazione. La struttura del corso prevede all'inizio e alla fine due dibattiti e poi, come al solito, incoda lo spazio per le domande e questo vuole facilitare proprio la partecipazione da parte del pubblico, che, lo ricordo, non ha solo dei docenti, ma anche degli studenti. Come servizi educativi del museo ci rivolgiamo in modo particolare ai giovani, perché pensiamo che abbiano bisogno di strumenti per essere indirizzati a leggere i fatti che accadono nel mondo contemporaneo, soprattutto quelli legati ai conflitti. Quindi mi auguro che veramente il corso risponda a tutte queste aspettative. Grazie. Ora Stefano Capelli di Fondazione Dalmine. Buongiorno a tutti. Anch'io vi porto i saluti del direttore della Fondazione Dalmine, Manuel Tonolini, che si scusa per non poter essere presente, e di tutto lo staff della Fondazione Dalmine. A noi fa praticamente piacere essere qui con voi, docenti e studenti, in questo ormai consolidato momento formativo all'inizio dell'anno scolastico. Come sapete, noi ci siamo giunti negli ultimi anni, nella organizzazione di questo corso, ci fa davvero piacere. E trovo soprattutto per l'impegno nella promozione dello studio, della conoscenza, della storia, considerando che noi come Fondazione Dalmine conserviamo l'archivio di una importante impresa nata nel Novecento, e quindi siamo partiti con attenzione proprio alla storia contemporanea. Inoltre, in questa seconda edizione del corso Conflitti e guerre della contemporaneità, tra i diversi temi che vedrete proposti dai relatori, per noi uno a cui ci sta molto a cuore, particolarmente importante, di quello che vi porterà a riflettere di come l'industria abbia influito e influisca sulla guerra, non solo per il passato, ma ci aiuta anche a capire certe dinamiche del momento difficile e triste che viviamo in quest'ultimo anno. Grazie. Bene, io invece sono Gabriella Cremaschi, della Fondazione Serugati La Porta, e quindi cominciamo. Dicevo, il secondo ciclo di un percorso che è fortemente collegato con quello dello scorso anno. Ieri sono andata a rivedere cosa avevo scritto per introdurre il corso dell'anno scorso. Avevo detto, avevo sottolineato, cominciavamo esattamente un anno fa, era il 4 novembre, avevamo sottolineato la coincidenza della data con la data della fine della Prima Guerra Mondiale, ma avevamo sottolineato come allora, un anno fa, cominciavamo un ciclo di incontri sulla guerra dopo uno shock collettivo, quello del 24 febbraio, che aveva riportato in modo inaspettato, inatteso, sicuramente per noi pubblica opinione, assolutamente stupefacente, la guerra così vicina a noi. C'era sembrato uno shock che non avesse uguale. Ce lo dicevamo un anno fa, abbiamo provato a ragionarci nel corso del percorso dei sette incontri dell'anno scorso e oggi ci troviamo qui, oggi, 3 novembre. Non è passato neanche un mese da quel 7 ottobre che penso che segni un prima e un dopo nelle nostre vite, nelle nostre vite che sono qua e che possono permettersi di stare dentro in una sala ad ascoltare una lezione. Ma certamente quello che pensavamo essere uno shock ineguagliabile ha dimostrato di essere solo un'anticipazione, perché siamo di fronte a qualcosa che davvero facciamo fatica a definire, che rasenta, almeno per me, non so se per altri è più semplice, rasenta l'indicibile e l'indefinibile. Allora oggi, all'inizio di questo ciclo di incontri, riaffermare la convinzione che abbiamo bisogno di studiare e di rileggere il passato per capire, saper leggere il presente e per fornire alle giovani generazioni che ci sono affidate gli strumenti per dipanare quella incredibile monstruosità che abbiamo di fronte. Forse risulta un'affermazione determinata dallo sforzo e dalla volontà, ma è necessaria. Informarsi, studiare e acquisire consapevolezza dalla profondità storica degli eventi e della complessità geopolitica è un nostro dovere. ci pare che il privilegio di essere nati da quella parte del mondo che non sta sotto le bombe ci imponga almeno questo dovere e che nell'impotenza che ci attanaglia di fronte a ciò che il mondo sta passando questo, in questo momento, è il nostro compito come educatori, come insegnanti, come studiosi. Lo facciamo dentro a questo ciclo che ovviamente non è sull'oggi ma che con l'oggi dovrà fare i conti iniziando il secondo ciclo di incontri sui conflitti e la guerra della contemporaneità. Luca Baldissara, che ormai appunto diceva prende la cittadinanza bergamasca oggi riprenderà un po' i fili del ragionamento che collegano il ciclo dell'anno scorso con quello di quest'anno. Noi oggi abbiamo voluto iniziare è una richiesta che era corsa lungo tutte le elezioni dell'anno scorso il tema del pacifismo e della pace con un dibattito che pone il dilemma guerra e pace e apre il ciclo di quest'anno con un'urgenza rinnovata proprio perché siamo di fronte a un momento in cui le ragioni della pace sembrano molto molto deboli. Luca Baldissara, che ringrazio per essere qua ha curato la costruzione del corso di quest'anno come quello dello scorso anno insegna storia contemporanea presso l'Università di Bologna e sui nostri siti avete la sua bibliografia che è già di per sé un ottimo strumento di organizzazione del pensiero e dei materiali. Nicola Labanca invece che abbiamo voluto fortemente con noi insegna storia contemporanea all'Università di Pisa i suoi filoni di ricerca sono il rapporto tra guerra, forze armate e società nell'Italia Unita ha lavorato moltissimo sull'espansione coloniale italiana infatti ricordavamo che è già stato nostro ospite chi di voi ha una lunga attivismo perché militanza non mi piace nella presenza di questi corsi lo ricorderà nel 2008 con una lezione che si intitolava il passato coloniale non vuole passare e do la parola la lezione è organizzata come un dialogo tra di loro quindi si presenta anche come dire con una modalità diversa dal solito ma siccome riteniamo che ci sarà necessità lasceremo spazio al dialogo con voi do ora la parola a Luca Baldissara e vi ringrazio Allora innanzitutto buongiorno a tutti e grazie un grazie sincero e convinto alle associazioni che rendono possibile questo corso e che mi hanno coinvolto quest'anno come lo scorso anno in questo nostro comune percorso di riflessione sulla guerra come avete capito e riprendo qui le parole che sono state appena pronunciate che avete appena sentito il corso è sì un attraversamento che offrirà della storia diciamo post 1945 che ha l'obiettivo di offrire degli strumenti di riflessione sulla guerra sulla società di guerra sul concetto di guerra adesso ne verremo di restituire quella che correttamente Gabriella Kremansky definiva la complessità di questo problema ma l'anno scorso come quest'anno questo corso inevitabilmente non potrà non misurarsi anche se non sempre esplicitamente con quelle che sono le questioni della contemporaneità o forse sarebbe meglio dire dell'attualità sia l'anno scorso che quest'anno ci ritroviamo a discutere di guerra in un contesto di guerra e quindi è impossibile per così dire che questo nostro percorso non si interroghi e non interroghi tutti noi sul ripresentarsi ancora una volta dello strumento guerra come strumento di risoluzione dei conflitti come contesto di pratiche e forme di violenza particolarmente pronunciata anche come espressione di una crisi dell'ordine internazionale e forse potremmo dire anche di una difficoltà del diritto internazionale in questo momento a rappresentare uno strumento di equilibrio nel contesto dei rapporti tra le potenze dunque un percorso che si muoverà come già lo scorso anno in bilico continuamente tra la riflessione storica e le domande che vengono poste da questa attualità così pressante un'attualità che non può non chiedere conto a ognuno di noi della situazione nella quale viviamo io di questo sono fortemente convinto e ne sono convinto anche perché credo come già cercavo in qualche maniera di argomentare lo scorso anno e come il corso poi nel suo complesso cercava di porre come questione noi viviamo un'epoca in cui probabilmente la questione della guerra ma ci torneremo e sentiremo anche il parere di Nicola al riguardo ha fatto come dire per così dire un salto di qualità ma un salto di qualità non tanto perché noi stiamo assistendo a guerre che ci dicano o che ci rappresentino forme di violenza e forme di conflitto a cui non abbiamo già assistito nel corso della storia ma perché la guerra in questo scorcio di ventunesimo secolo sembra essere tornata pienamente legittimata come strumento della politica internazionale come strumento come dicevo poco fa per la risoluzione dei conflitti o quantomeno diciamo come elemento che rappresenta fortemente una crisi dell'ordine internazionale e il tentativo di ristabilire anche ricorrendo all'uso della forza un nuovo ordine che oggi sembra essere non solo molto precario ma sembra anche essere in via in qualche modo di esaurimento l'anno scorso il percorso si era concentrato soprattutto sulla riflessione su quello che era il concetto di guerra su come questo era venuto mutando nel tempo e sulle forme storiche dei conflitti quindi aveva cercato di intrecciare una riflessione sui singoli conflitti che avevano punteggiato il periodo successivo alla seconda guerra mondiale e su come questo percorso andasse questo era l'interrogativo di fondo a ridefinire a riorientare la risposta su cosa sia guerra su quale sia il ruolo della guerra nella società odierna su come cambiano i soggetti protagonisti dei conflitti su come muti nel tempo e sia mutata la concezione della guerra della violenza le forme della sua legittimazione e via discorrendo con un'idea di fondo e cioè che dopo aver assistito fino alla fine degli anni ottanta a una serie di conflitti che potremmo riassumere in una definizione che è quella le guerre della guerra fredda che in qualche modo stavano dentro a un contesto di relazioni internazionali che era quello del bipolarismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica ma che nello stesso tempo riproponeva forme di conflitti che per certi aspetti avevano le forme a cui si era assistito nelle guerre della prima metà del secolo quindi spesso anche guerre che avevano avuto un numero di vittime elevatissimo durante la guerra fredda basti pensare alla Corea o potremmo aggiungere il Vietnam o l'Afghanistan dell'invasione sovietica ma guerre nelle quali scusate si affacciava anche un'altra questione che sarebbe poi emersa sempre più chiaramente nel periodo successivo e cioè la assoluta simmetria dei protagonisti di queste guerre stati o come si diceva all'epoca e come parte si dice ancora oggi superpotenze il cui apparato militare strategico organizzativo è tale da apparentemente non consentire un affrontamento sul piano e sul terreno delle guerre tradizionali e quindi il chiamare il moltiplicare quelle che fino a un certo punto della storia noi abbiamo chiamato le forme di guerriglia le forme delle guerre partigiane o delle guerre di resistenza alle occupazioni a forme di conflitto che avevano a che fare con queste pratiche con queste forme ma che nello stesso momento venivano a rappresentare anche per stati o per entità statuali parastatuali che non fossero in grado di combattere questi stati una come dire una forma quasi inevitabile a cui accedere nel conflitto in uno scontro non diretto in questo contesto le guerre che hanno seguito la fine della guerra fredda in una fase in cui per un breve momento ci si era raccontato che alla fine della guerra fredda avrebbe anche rappresentato probabilmente l'approdo a una società senza guerra l'approdo a un mondo in cui la fuoriuscita dal confronto politico-militare avrebbe favorito ha reso più facile accedere a un mondo di pace ha prodotto in realtà paradossalmente quello che sembra essere esattamente il contrario in fondo se pensate nello stesso 91 prima ancora che l'Unione Sovietica scomparisse come soggetto della politica internazionale con la prima guerra del Golfo e con i bombardamenti su Baghdad noi assistiamo immediatamente a un presentarsi di forme di conflitto che per il trentennio successivo almeno fino alle soglie della guerra in Ucraina fatica a essere definita guerra cioè tende a essere presentata e raccontata a livello internazionale come operazione di polizia interventi umanitari interventi di ripristino del diritto internazionale molto spesso evocati con il nome delle missioni che sul campo organizzavano quel tipo di interventi spesso interventi sotto le bandiere dell'ONU poi la stessa ONU a un certo punto è stata sostituita da altre bandiere come ad esempio quella della NATO nella ex Yugoslavia in una fase in cui però comunque si faticava a definire queste con il termine guerra termine che sì veniva impiegato ma veniva impiegato non senza che poi non lo si mettesse in discussione non vi fosse chi si opponeva all'applicazione di questa categoria concettuale ai conflitti che erano in corso scegliendone e proponendone altri segnalando cioè che fino a un certo punto noi abbiamo vissuto nel passaggio tra ventesimo e ventunesimo secolo all'onda lunga di una memoria della guerra che veniva soprattutto in Europa negli Stati Uniti soprattutto in ambito occidentale appoggiare sopra la memoria dei grandi conflitti mondiali del novecento che in qualche modo delegittimavano e rendevano la parola guerra qualche cosa di apparentemente non dicibile non praticabile non richiamabile fino in fondo in tutto ciò che il termine guerra evoca ciò a cui stiamo assistendo nel corso di questo direi di questi ultimi due anni è il fatto che il termine guerra invece oggi è applicato utilizzato anche nel dibattito internazionale senza remore gli stessi fatti e gli eventi che dal 7 di ottobre in avanti stanno in questo momento sulle prime pagine di tutti i giornali e continuamente nell'attenzione di tutti gli osservatori internazionali del pubblico e di tutti noi hanno impiegato senza troppi problemi con poche parole cioè con poche persone che hanno speso delle parole anche a mettere in dubbio la natura bellica vera e propria di quanto sta accadendo il termine guerra guerra è diventato un termine potremmo dire per molti aspetti sdoganato sdoganato sia nel suo uso concettuale ma sia e ciò naturalmente ci preoccupa se di più sdoganato anche appunto come un possibile mezzo che è legittimato dalle condizioni internazionali dagli scontri che sono in atto dai conflitti che appaiono irrisolvibili e questo è uno dei nodi di cui credo discuteremo oggi che appaiono irrisolvibili dicevo se non con l'uso della forza e quindi non con il ricorso alle armi della politica non con il ricorso agli strumenti del diritto non con il ricorso a quegli enti a quelle organizzazioni sovranazionali che in qualche maniera hanno il compito di presiedere a un ordine politico internazionale stabile quindi ciò di fronte al quale noi siamo oggi e dentro il quale i due cicli quello dello scorso anno e quello che va ad iniziare ora si pongono e si interrogano è inevitabilmente rappresentato da questo percorso e se l'anno scorso avevamo soprattutto ragionato delle questioni di ordine più generale quindi qual era stato il mutare nel corso della seconda metà del ventesimo secolo sino alle soglie dell'oggi delle forme dei conflitti poi guerra e ordine internazionale guerra e diritto le nuove guerre guerra e religione guerra e politica se questi erano stati i grossi nodi storico-concettuali che erano stati affrontati quest'anno si intende approfondire entrare ulteriormente nel merito di questo percorso ragionando e aprendo delle finestre di comprensione su che cosa poi la guerra provoca all'interno delle società delle società di guerra sia quelle direttamente investite dai conflitti sia dalle società che se anche non sono direttamente investite dagli eventi bellici in qualche modo però inevitabilmente come credo accada anche nella società in cui noi stessi viviamo oggi vengono sollecitate vengono mutate vengono investite da quelli che sono i processi che conducono la guerra e quindi oltre a questo incontro discussione di oggi su guerra e pace si ragionerà della questione della violenza della violenza agita è subita soprattutto nella prospettiva di coloro di quei soggetti spesso considerati neutrali donne e bambini con l'incontro previsto la prossima volta di Marina la Latta Costerbosa una filosofa del diritto poi il problema dell'informazione anche qui quanto ci siamo detti dall'anno scorso in poi che il fenomeno guerra investe immediatamente l'informazione e quanto oggi l'informazione sia uno delle forme di espressione anche indirettamente dei conflitti ancora l'idea che le guerre soprattutto le guerre post 1945 post Hiroshima pongono il problema della catastrofe della catastrofe nucleare e qui sarà la voce di un antropologo a interrogarsi a riflettere su questo quella di Fabio Dei di nuovo ancora quanto le dinamiche economiche sono influenzate dalla guerra e qui interverrà Stefano Lucarelli fino a proporci di nuovo il problema del rapporto guerra e politica nell'incontro finale con Nadia Urbinati che a maggior ragione ad un anno di distanza ci interroga sulla latitanza sull'assenza di una politica che guardi al futuro che sia in grado di porsi al di là della contingenza e della strumentalità del dibattito in corso e proponga degli obiettivi e degli orizzonti di stabilizzazione e di superamento dei conflitti quindi come capite il quadro è un quadro estremamente vasto è complesso il termine complesso credo che tornerà spesso in questi nostri incontri proprio a dimostrazione e a conferma di quanto sia sfaccettato di quanto siano come dire di quanto siano complicati i profili del fenomeno bellico e i suoi effetti sulla società che sono investite dal conflitto ma anche su quelle che vivono in un'epoca di conflitti come nel nostro caso e per partire oggi io direi che non possiamo anche perché poi vorrei lasciare la parola alla vera star di questo nostro incontro l'amico Nicola alla banca che non insegna a Pisa ma all'università di Siena c'è stato probabilmente uno slittamento perché io insegnavo a Pisa prima di trasferirmi a Bologna ma ecco dicevo quanto di fronte a tutto questo è un discorso sugli orizzonti di pace e sugli orizzonti anche del pacifismo quindi di un'azione consapevolmente orientata a chiedere a rivendicare a proporre a suggerire soluzioni di pace per l'uscita da questi conflitti quanto in realtà sia proprio importante capire le ragioni e le caratteristiche della guerra io credo che molto spesso noi ci siamo trovati di fronte e quando intendo le ragioni non vorrei generare equivoci non le ragioni inteso nella forma di legittimazione del conflitto ma quelle che sono i motivi per cui le guerre prendono corpo per cui iniziano per cui come ci ricordava von Clausewitz una volta lanciati al galoppo i cavalli della guerra poi il vero problema è come fermarli questi cavalli ma appunto che per porsi il problema di una soluzione di pace e di stabilità internazionale non si possa non muovere cosa di cui io sono convinto e ora sentiremo il parere a riguardo di Nicola la banca che sia possibile prescindere da un interrogativo da un'interrogazione rivolta a tutti noi su che cosa significa davvero guerra su quali sono le ragioni e le forme della guerra su che cosa significa e su cosa sia la guerra oggi oggi che noi utilizziamo questo termine e lo utilizziamo avendo però molto spesso nell'immaginario delle nostre società come di quella italiana che non sono più investite da conflitti dal 1945 e quanto in realtà molto spesso noi pensando alla guerra non poggiamo su un immaginario che è un immaginario che si è formato nel corso del tempo nel passaggio di testimone tra le generazioni nel racconto nelle politiche della memoria avendo un'idea di guerra che è un'idea di una guerra maturata in ben altri tempi in ben altre epoche con caratteristiche che molto spesso sono assai distante da quelle della guerra contemporanea e di questo non possiamo fare a meno come dire di discutere non possiamo fare a meno di interrogarci su questo perché un percorso appunto che ci porti verso un orizzonte di pace non può non interrogarsi su che cosa significa oggi guerra su cosa dobbiamo intendere col termine guerra oggi sia rispetto appunto alle guerre contemporanee al loro mutare rispetto alle guerre precedenti sia rispetto alla memoria all'immaginario alla rappresentazione che noi abbiamo nella nostra società del termine guerra e proprio a partire da questa domanda io passerei il microfono a Nicola Labanca che è uno dei massimi studiosi del fenomeno guerra che non si è limitato come molto spesso gli storici della guerra e gli storici dei conflitti fanno studiarne una diventare il massimo esperto di quell'unico conflitto ma ha uno sguardo complicato e complesso sul fenomeno appunto lo vorrei sollecitare proprio ad aprire questa nostra discussione di oggi e questo corso a muovere da questo interrogativo che cosa significa oggi guerra grazie grazie buonasera a tutti grazie dell'invito grazie alle fondazioni plurime che hanno reso possibile la mia salita qui su a Bergamo ancora una volta ovviamente professor Luca Baldessara permettetemi confidenzialmente Luca ha fatto la domanda ma la risposta l'ha già detta nel suo discorso quindi è una forma retorica di passaggio del testimone del microfono io proverò a mettere un po' diciamo lui ha detto le cose molto in sintesi ripeto a chi ha ben ascoltato il suo discorso la risposta ve già ma proverò a fare a scindere in alcuni passaggi in tre o quattro passaggi alcune questioni diverse fra di loro che possono rispondere alla domanda fatta ma che cos'è questa guerra che cos'è la guerra cosa sono le guerre ecco intanto dico subito che arriverò alla fine non dimentico che cos'è il pacifismo e quale ruolo oggi stia avendo o avuto il pacifismo in quanto storico abbiamo come tutti gli storici tanti problemi con il passato per cui non chiedetemi cosa bisogna fare ci vuole un filosofo e cosa succederà perché ci vuole un astrologo lo storico si occupa guarda indietro ecco come diceva Walter Benjamin non dimentico che cos'è stato e che cos'è il pacifismo l'anelito di pace ci arriverò all'ultimo dei miei tre o quattro passaggi quindi chi avrà la bontà e la pazienza di ascoltarmi troverà forse in fondo qualche osservazione riflessione su che cos'è il pacifismo dico solo adesso che ormai il pacifismo non è più l'analita di pace non è più non dovrebbe essere più un pensiero negativo non voglio quella guerra ma dovrebbe essere un pensiero ricco e positivo io voglio un mondo che certo non abbia le guerre ma che abbia tutte queste altre cose la solidarietà la giustizia quindi una concezione positiva e piena del pacifismo però è evidente che comunque la si pensi sia pace negativa sia pace positiva in realtà l'anelito di pace ha a che vedere con la guerra non ve niente da fare e questo dal mio punto di vista di studioso del passato di storico appunto significa vedere le trasformazioni i storici non hanno una risposta astratta e filosofica ma hanno tante risposte a seconda dei vari contesti che cos'era il pacifismo al tempo di Napoleone delle guerre Napoleone cos'era il pacifismo al tempo della prima guerra mondiale cos'era il pacifismo al tempo dell'Ucraina e di Gaza certo è qualcosa che lega tutto questo ma noi vediamo molto le differenze i contesti i vari attori è un po' la differenza che c'era tra uno storico e un grandissimo filosofo come Hegel che quando pensava al cavallo vedeva la cavallinità e gli storici vedono invece i tanti cavalli diversi aggiungo sempre come premesse molto iniziali che intervenendo qui non come cittadino ma appunto come studioso del passato cercherò di non fare cronaca non sono interessato alla cronaca se non come una storia nel suo farsi questo sì ma certo non sono qui a fare politica o a dire quello che io penso ecco quello che sarebbe del tutto disinteressante per tutti ma diciamo se uno vuol sapere cosa c'è da fare ripeto deve leggere il testo il filosofo deve andare in chiesa deve andare in sezione se esistono ancora i partiti politici ma non certo una conferenza di uno storico il primo passo quindi il primo momento su cui vorrei soffermarmi un po' è con una frase che per capire la pace bisogna conoscere la guerra e cioè conoscere la storia della guerra conoscere i momenti i contesti geografici storici culturali politici di che cosa è stata la guerra partiamo subito con una definizione che cos'è una guerra voi avete fatto tutto un corso quindi saprete già tutto per me in pochissime parole riecheggiando un pensatore di ormai più di 200 anni fa la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi cioè non con i mezzi pacifici non con i mezzi ordinari quindi la guerra è in primo luogo una scelta politica di fronte a un nodo una controversia interna o internazionale non è che la guerra nasce la guerra viene scelta da qualcuno quindi la guerra è una politica però anche la seconda parte non è secondaria della definizione con altri mezzi cioè non con i mezzi della politica quale essa è stata nei vari contesti storici non voglio tornare al passato lontano all'antichità al medioevo rimanendo all'800-900 certo la politica abbiamo citato prima Napoleone e la rivoluzione francese poi l'impero napoleonico era fatto in un contesto quindi alcuni avevano diritto di voto altri no al tempo dell'Italia liberale al tempo del liberalismo ottocentesco inizio novecentesco la politica la facevano alcuni altri no molti non avevano il diritto di voto il diritto di voto suffragio universale in Italia è stato teorizzato nel 1913 praticato nel 1919 per i maschi e per le donne solo nel 1946 ad esempio in altri paesi le donne hanno votato molto prima che da noi ma in Italia c'erano vent'anni di regime fascista e anche gli uomini maschi ultra 23 25 25 anni hanno avuto in altri paesi il diritto di voto molto prima nella Francia il diritto al suffragio universale maschile c'era già a metà dell'ottocento e nella Germania dopo il 1871 da noi ripeto 1913 o meglio 1919 quindi è evidente che lo spazio della politica in Italia era più ristretto la politica formale parlamentare rispetto allo spazio della politica che c'era nella Repubblica francese e anche nell'impero tedesco della fine dell'ottocento quindi è una scelta politica la guerra di un certo contesto ma con altri mezzi dicevo la seconda parte della definizione non è secondaria cioè con i mezzi non della politica non con i mezzi del Parlamento del governo della mobilitazione delle larghe masse ma con i mezzi militari con le forze armate questa seconda parte della definizione spesso è trascurata o considerata irrilevante ma se uno non sa cosa sono le forze armate non sa come operano non sa come sono cambiate nel tempo non capisce bene la guerra la riduce a una cosa politica che certamente è la sua base ma non è il tutto anzi talora i politici scelgono una direzione fanno una scelta generale e poi gli strumenti militari in guerra non sempre raggiungono quell'obiettivo facciamo un esempio semplice il generale Cadorna durante la prima guerra mondiale italiana metteva in pratica la scelta politica del governo di centrodestra di Antonio Salandra e insieme insieme al re avevano concordato di raggiungere Trento e Trieste invece Cadorna porta le forze armate italiane assegnatamente l'esercito a Caporetto non è esattamente quello che si aspettavano il re e il presidente del consiglio quindi i mezzi militari non sono riusciti in quel caso per tutta una serie di ragioni a raggiungere lo scopo politico quindi se noi non capiamo quegli altri mezzi con cui è fatta la guerra rischiamo di ridurla a politica e la politica da sola non basta quindi la guerra è la politica svolta con altri mezzi e lo studio e la conoscenza di questi mezzi sono indispensabili all'opinione pubblica per capire che razza di guerra è quella di cui si parla sempre riprendendo il pensatore di due secoli e mezzo fa qualcuno avrà capito che si parla del generale Carl von Clausewitz e gli dà un'altra definizione che secondo me è importante e che è resistito come la precedente a tutte le grandi trasformazioni della guerra tra i primi dell'Ottocento ed oggi l'altra definizione è come viene svolta questa guerra questi altri mezzi cosa sono allora Clausewitz dice che la guerra si svolge secondo un principio trinitario centrar niente la trinità l'altra e il principio trinitario con il generale Clausewitz è che la guerra al suo tempo tutto al tempo che egli stava analizzando cioè la grande sollevazione la grande rivoluzione militare delle guerre napoleoniche tra fine del settecento e primo quindicennio dell'ottocento beh a quel tempo la guerra era seguiva appunto tre principi aveva tre forme tre aspetti i capi i comandanti e il popolo cioè i capi di nuovo la politica il governo che fa la scelta di fare la guerra poi non è che il governo va in guerra in guerra ci va il secondo livello le forze armate sostanzialmente i comandanti che decidono come fare la guerra dove attaccare con quali mezzi in quale momento ma fondamentale per Clausewitz che veniva da un settecento in cui le guerre erano limitate di piccoli eserciti e che si trova invece da generale prussiano di fronte un'enorme rivoluzione militare la rivoluzione militare francese la traduzione militare della rivoluzione francese in cui la Francia rivoluzionale passa da piccoli eserciti come quelli settecenteschi come quello prussiano a un enorme nuovo grande esercito di massa basato sulla coscrizione militare obbligatoria cioè a un popolo in armi che è una roba che i governanti dell'Europa settecentesca non avevano mai pensato e mai voluto fare sino in fondo mai avrebbero voluto dare le armi al popolo perché non si sa quello che può fare con le armi potrebbe anche rivolgerle non contro il nemico ma contro il proprio re contro l'autocrate quindi mai l'avevano fatto invece la rivoluzione francese mette le armi in mani al popolo effetto alla coscrizione obbligatoria e rende quindi il popolo una rilevantissima entità il terzo degli elementi con cui si fa la guerra moderna ecco per Clausewitz la guerra è fatta a questi tre livelli e a questi tre livelli deve essere studiata capita inoltre il popolo non è solo quello in armi perché è un popolo ed è fatto anche questo lo diciamo noi ma è conseguente a quello che scrive Clausewitz è fatto dal paese dal fronte interno dalle mogli dalle madri dai figli che in un regime autocratico settecentesco pre-rivoluzionario non hanno una grande rilevanza politica ma in un regime rivoluzionario di massa come quello francese hanno un'enorme grande politica un enorme grande peso politico e in fondo possiamo dirlo con un termine attuale è l'opinione pubblica quindi il popolo della guerra moderna di Clausewitz è rilevante sia perché è in armi sia perché sta dietro il grande fronte combattente è il fronte interno e pesa politicamente se il popolo in armi combattente o del fronte interno non apprezzano una guerra non capiscono la guerra non vogliono quella guerra per i capi e per i comandanti per la politica e per gli stati maggiori è difficile fare la guerra in una situazione moderna queste due definizioni la guerra come forma della politica con altri mezzi e la concezione trinitaria delle guerre capi comandanti e popolo è a mio avviso di straordinaria e ancora utilissima importanza non voglio farvi la storia di tutte le guerre dalla rivoluzione francese a oggi perché se no avremo bisogno di tavoli da picnic di brandine per dormire perché ci vorrebbe molto tempo parto dalla guerra fredda come suggeriva anche Luca e per capire le guerre di oggi è fondamentale confrontarle confrontarle con quello con un fenomeno enorme che ancora forse non abbiamo ben realizzato come cittadine e cittadini e anche come storici italiani internazionali ancora non abbiamo ben colto che è la guerra al tempo della guerra fredda intanto una primissima promemoria per guerra fredda indentiamo lo scontro fra le due grandi superpotenze armate di arsenali nucleari e quindi sostanzialmente 1943 1945 1947 c'è discussione ma insomma quegli anni lì a cavallo fra le guerre fra la fine della seconda guerra mondiale e l'inizio del dopoguerra a 43 perché le prime grandi conferenze internazionali 45 perché il lancio delle due bombe atomiche sul Giappone 47 perché la spaccatura finale fra Stati Uniti da un lato e l'Unione Sovietica da quell'altro fra mondo occidentale e mondo diciamo sovietico campo socialista come si diceva a quel tempo ecco guerra fredda che inizia allora e finisce tra l'87 l'89 e il 91 anche qui si discute fra gli storici 87 perché Reagan e Gorbachev Gorbachev come diciamo noi si accordano nell'87 per un'importante riduzione di armi l'89 l'immagine del muro di Berlino che crolla i muri crollano nell'Italia dei terremoti perché non abbiamo costruzioni antisismiche quello è venuto giù perché aveva finito la propria funzione storica e il 91 perché è il momento in cui veramente l'unione sovietica implode e quindi il bipolarismo lo scontro fra est e ovest non ha più senso perché a ovest rimane gli Stati Uniti rimane il campo occidentale ben in piedi e invece a est l'unione sovietica crolla gli Stati dietro la cortina di ferro europea si sfaldano non sono più pronti a accettare la disciplina sovietica e di tutto il mondo comunista del tempo rimane in piedi la Cina e Cuba e poco altro il Nord Corea diciamo allora questa è la guerra fredda ma questo periodo che alcuni storici hanno avuto l'ardire di definire la lunga pace è stato in realtà pieno di guerre certo qualcuno di voi ha i capelli non nerissimi come i miei diciamo quindi c'è stato dentro tutto nella guerra fredda e sa benissimo che non c'è stata la terza guerra mondiale non c'è stato lo scontro atomico che avrebbe piallato parte del pianeta è vero quella guerra lì non c'è stata ma in quel periodo si sono combattuto un numero enorme di conflitti dentro lo scontro est-ovest no lungo l'asse nord-sud del mondo cioè la grande guerra atomica fra est e ovest non c'è stata ma le potenze dell'est e dell'ovest per procura hanno attizzato hanno permesso si sono avvantaggiate di tanti conflitti nel sud del mondo allora noi non possiamo dire con un'ottica eurocentrica la guerra fredda come lunga pace perché se lo dite a un nigeriano se lo dite a un coreano o anche a una nigeriana o una colerana dice non hai capito niente in che mondo sta il mio mondo era pieno di conflitti di dolore di morti ecc per la verità anche tra est e ovest noi non possiamo dire io non direi che non c'è stata guerra certo non c'è stata guerra a un consumo di sangue ed è stato un bene perché sia la NATO sia il patto di Varsavia avevano arsenali nucleari impressionanti però la quantità di risorse economiche che sono state riversate sulla costruzione dei sistemi di guerra forze armate appunto arsenali è enorme non c'è mai stato un investimento nel sistema della guerra gli inglesi hanno il termine war fair così grande come al tempo della guerra fredda non c'era stato prima e non c'è stato nemmeno dopo su questo torneremo più avanti quante risorse sono andate nel war fair nel nord del mondo sia est sia ovest che invece avrebbero potuto andare nel welfare intanto le nostre pensioni avrebbero potuto essere migliori e figli e nipoti avrebbero potuto probabilmente avere una pensione che non hanno anche come conseguenza dell'enorme investimento economico che c'è stato diciamo così perché c'era la guerra fredda allora se lo vediamo da questa prospettiva la guerra fredda non è affatto una lunga pace anzi è stata un incubatrice di guerra effettiva nel sud del mondo e sostanziale sia pur senza morti in battaglia nel nord del mondo tra l'altro la guerra fredda non è una sola cosa se voi guardate le statistiche del numero dei conflitti che sono stati combattuti nel periodo tra il 1945 e il 1991 certo nessuno di questi da solo e nessuno messi insieme fanno i 10 milioni di morti forse della prima guerra mondiale e qualcuno dice 60 gli 80 milioni di morti della seconda guerra mondiale evidente questo sia chiaro però insieme fanno un'enorme quantità di lutti di risorse non voglio dire sprecate insomma di risorse che sono andate all'warfare e questa curva non è identica dal 1945 al 1991 questa curva schematicamente sale il numero di conflitti il numero di morti il numero di uomini in armi il numero di spese militare sale dal 1945 sino agli anni 70 poi ha un lieve declivo scende un po' e poi risale e comunque a un livello alto ecco qui voglio accennare a cosa dirò più avanti e mi fermo per un secondo risale ma ad un livello che è altissimo rispetto rispetto ai conflitti che vediamo oggi oggi abbiamo circa nel mondo 30 conflitti aperti di cui due ce ne rimangono in mente l'Ucraina Israele Palestina ma ce ne sono altri quel numero lì quella trentina di conflitti quel numero di conflitti era molto più alto al tempo della guerra e il perché è abbastanza semplice perché lo scontro est-ovest lo scontro capitalismo comunismo era così forte che attizzava tutti e tanti conflitti intorno al pianeta dentro il pianeta in tanti luoghi e teneva questi conflitti a lungo anche il terrorismo non è un'invenzione il terrorismo le due torri terrorismo Hamas quello è terrorismo puro ma non è un'invenzione di oggi a parte chi ha predicato terrorismo come formula politica penso gli anarchici penso i movimenti fascisti di destra il partito nazionale fascista è un partito armato che semina la violenza e il terrore sin dalla sua fondazione quello è chiaro questi due sono chiari ma il terrorismo come forma politica la guerra di tipo terroristica c'era anche al tempo della guerra fredda non è un'invenzione di oggi solo che a quel tempo aveva una ricaduta meno mediatizzata di quando di quella odierla allora insomma mi vorrei fermare qui per se Luca è d'accordo riassumendo quanto detto sino adesso la definizione di guerra come politica svolta con altri mezzi la definizione trinitaria della guerra moderna e abbiamo accennato alle due guerre mondiali ma soprattutto al periodo della guerra fredda come periodo di guerra noi abbiamo una deformazione prospettica personalistica egoistica nel guardare a quel mezzo secolo ce la siamo scampata abbiamo avuto la fortuna di nascere in occidente e quindi la guerra non c'è stata sì non c'è stata la guerra nucleare est ovest ma una quantità enorme di risorse è andata in quel senso nel nord del mondo e nel sud del mondo la guerra è stata endemica molto di più di quanto è successo dopo mi pare che da questo primo da questo primo giro una cosa emerga con grande chiarezza nella quale io stesso mi riconosco appieno e attraverso la ripresa di von Clausewitz in questo nesso molto stretto tra guerra e politica che spesso viene evocato ma che altrettanto spesso però poi non viene a mio modo di vedere sufficientemente declinato e a cui non vengono dati sufficienti contenuti e allora mi verrebbe da chiederti andando ulteriormente in profondità rispetto a questo argomento e sviluppando questa sollecitazione che tu offrivi beh allora noi potremmo ragionare al di là e oltre quanto non si sia fatto finora su come cambia la guerra in relazione a come cambia la politica perché questa mi sembra una domanda cruciale ed essenziale ed è anche una questione che poi rinvia a ciò su cui secondo me potremmo tornare prima di questa prima della conclusione di questa nostra chiacchierata e cioè il problema di come il pacifismo si misura con la politicità delle guerre e della guerra oltre all'invocazione alla richiesta di pace e allora mi dico e ti dico potremmo ragionare nei termini di a grandissime linee quindi il rischio di essere schematico e come sempre negli schematismi poi consumare se non errori diciamo così delle forzature allora potremmo pensare che in fondo dopo il 1945 c'è un orizzonte di guerra quale è quello della guerra fredda che non è una guerra combattuta direttamente tra i due blocchi ma potremmo dire una guerra combattuta per procura soprattutto lungo l'asse anche questo condivido pieno lungo l'asse nord-sud in cui però esiste diciamo così un confronto attraverso la guerra che supera quella dinamica delle guerre degli stati nazionali qual era stato in Europa nell'ottocento e poi soprattutto nella prima metà del novecento gli stati esistono ancora ovviamente dopo il 45 ma nel quadro della guerra fredda vengono portate una dinamica diciamo imperiale in una convivenza tra la dimensione degli stati sì ma attraverso politiche imperiali che hanno costantemente il riferimento e il richiamo nella forza e l'uso ricorso alla forza soprattutto nelle aree diciamo così che non sono le aree principali dei sistemi di alleanza anche perché in queste aree invece l'obiettivo è quello della stabilità in fondo la stessa scelta che viene compiuta dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale di consumare un processo come quello di Norimberga che sta come dire alla fondazione del diritto internazionale e sì quello diciamo di mettere sul banco degli imputati delle persone in carne ed ossa ma è soprattutto nell'orizzonte degli Stati Uniti quello di mettere sul banco degli imputati la guerra d'aggressione e di delineare attraverso il ricorso al diritto internazionale un orizzonte di stabilità delle relazioni internazionali soprattutto lungo l'asse est-ovest che poteva anche coinvivere appunto con la guerra nord-sud come si è visto nel corso della storia tra il 45 e l'89 e quindi comunque una guerra che anche quando c'è anche quando fa più di un milione di morti in Corea più di un milione di morti in Vietnam eccetera eccetera potremmo continuare con gli esempi delle guerre della guerra fredda sta dentro a questa come dire a una sorta di equilibrio tra guerra e stabilità dell'ordine internazionale che è quello che forse ha consentito a molti di dire di ragionare sulla guerra fredda come età della pace o comunque come un'età comunque stabile o soprattutto dagli anni 90 del novecento in poi ad avere quasi una sorta di nostalgia della guerra fredda perché comunque non c'era quella apparente diffusione e quella incapacità di governare i conflitti perché in fondo se c'è una caratteristica forse delle guerre o dei conflitti degli anni 90 in poi è che nessuno sembra vincerle durano lungo iniziano non si sa quando finiscono e sembrano non finire con un vero vincitore certo non si può dire che finiscano almeno ad oggi con una stabilizzazione dell'ordine internazionale dentro questo quadro la politica è una politica che ruota in questa dialettica tra grandi conflitti internazionali come quello diciamo schematicamente per intenderci democrazia comunismo e nello stesso momento ha una sua declinazione dentro la politica nazionale quindi ad esempio attraverso i partiti il pacifismo è stato anche questo è stato mosso durante gli anni della guerra fredda da quelle che sono state in parte le agenzie politiche dell'epoca in primo luogo si pensa in Italia all'esperienza dei partigiani della pace per intenderci dagli anni 80 in poi nel quadro di un apparente rallentamento allentamento della tensione tra est e ovest il pacifismo sembra superare e trovare una diversa prospettiva che è la prospettiva di un pacifismo che sembra superare le grandi contraposizioni che avevano caratterizzato la guerra fredda mettere insieme anche fronti opposti diciamo insomma che si erano percepiti rappresentati in parte come opposti negli anni precedenti con un pacifismo di matrice cattolica un pacifismo che invece viene dalla tradizione diciamo del movimento operaio che era stata la tradizione socialista e poi comunista nel dopoguerra e che sembra a quel punto poter trovare un punto di convergenza che per alcuni anni sembra essere molto forte sono gli anni della contraposizione rispetto ai missili all'installazione dei missili gli anni di commiso in parte quel pacifismo che arriva e che ci viene consegnato ancora negli anni 90 di fronte ai grandi conflitti di fronte alla guerra nella ex Jugoslavia e via discorrendo entrando nel ventunesimo secolo in una eclissi della politica soprattutto nel mondo europeo occidentale di una politica che sembra quando dico eclissi non che scompare la politica anzi come dire il cancan politico sembra pervadere e permeare ogni ambito della società dico eclissi della politica nel senso di una politica capace di progetto di una politica che non c'è più nel mondo europeo occidentale cioè di guardare la futura di progettare politicamente il futuro di darsi degli obiettivi e in fondo lo stesso Clausewitz quando parlava delle guerre e della guerra come continuazione della politica e altri mezzi insisteva anche sul fatto che però il comando lo devono sempre avere i politici non i militari cioè che sono i politici che devono avere ben chiari fin dall'inizio quali sono gli obiettivi della guerra perché se no la guerra appunto come appare oggi non finisce mai sembra non avere una via d'uscita non si sa come uscirne non si sa come pacificare ecco allora in questa chiave considerato anche nel corso del passaggio dagli anni 90 ai primi 2000 la grande insistenza sul fatto che le guerre fossero e avessero degli obiettivi di pacificazione e di operazione anche molto spesso umanitarie non può essere una delle ragioni per cui il pacifismo in questa ultima stagione è sembrato più afono è sembrato meno capace ad esempio di riempire le piazze come era stato penso alla manifestazione di Londra contro il governo Blair all'epoca della guerra del Golfo penso ad altre manifestazioni del genere non è sembrato più in difficoltà rispetto a questa alle guerre forse perché il pacifismo nel mutamento della politica all'interno delle nostre società oggi fa più fatica a misurarsi con la politicità della guerra se è una domanda da 100 milioni poi voglio 100 milioni sul tavolo però perché devo sforzarmi quando non ci sono i 100 milioni 99 98 allora al solito Luca con acutezza ha usato alcuni termini stabilità politica e incertezze del movimento pacifista ragioniamo un po' su questi è chiaro che il contesto che vi ho delineato prima sulla guerra fredda in fondo indica un'immagine indica soprattutto se uno ha la fortuna di stare nel nord del mondo una qualche stabilità est contro ovest per mezzo secolo sembra una roba stabile ripeto che meno stabile è quel mezzo secolo se lo si guarda dal sud ma insomma assomiglia a una stabilità è evidente che con la fine della guerra fredda questo castello crolla crolla e rende la situazione meno stabile interroga la politica su come costruire una nuova stabilità dopo la fine dello scontro Stati Uniti e Unione Sovietica e per il pacifismo in fondo molto schematicamente brutalmente al tempo della guerra fredda la situazione era abbastanza facile se eri un pacifista dell'ovest e beh la colpa stava all'est se eri un pacifista dell'est e ce ne furono negli anni 80 una buona parte del problema stava all'ovest molti pacifisti avevano anche una buona formazione e sostenevano che pur stando all'ovest la colpa era dell'ovest eri un pacifista francese statunitense il problema dei problemi era l'imperialismo statunitense la metto lì molto brutalmente diciamo che comunque la si vedesse erano soluzioni abbastanza semplici ma quando non c'è più l'est di chi è la colpa se ci sono dei conflitti è chiaro che questo non solo mette in allarme la politica che tipo di sistema internazionale costruiamo dopo la fine della guerra fredda ma rende anche le cose più difficili ai pacifisti ma prima di parlare dei pacifisti ancora due parole sulla guerra brevi perché la guerra fredda ha durato 50 anni il post bipolarismo cioè il periodo successivo al bipolarismo dalla guerra fredda per adesso è durato 30 anni quindi il mio discorso proporzionalmente sarà un po' più breve allora sia chiaro se volete posso dimostrarlo ma ci vorrebbe un po' di tempo ma permettetemi di suggerirvi che oggi in questi 30 anni ci sono stati anno per anno molti meno conflitti aperti molte meno guerre aperte che al tempo della guerra fredda ci sono stati molti meno uomini e donne armate che al tempo della guerra fredda si è speso molto meno in armamenti che al tempo della guerra fredda ci sono stati molto un numero molto minore di morti che al tempo della guerra fredda le spese militari sono oggi molto minori che al tempo della guerra fredda dice ma allora se un irenico ingenuo e oggi siamo in un mondo di pace di là c'è l'Ucraina un po' più in là c'è Israele Palestina come si concilia questa cosa si concilia con i dati non con la militanza politica perché i dati ci dicono oggi che nell'insieme il periodo post bipolare è più pacifico del periodo guerra fredda per il pianeta nel suo complesso dice a noi il pacifismo ha più ragione d'essere se stiamo tutti meglio andiamo a casa il problema è che per la consapevolezza nostra contemporanea anche un solo morto è troppo anche una sola guerra è troppa anche un solo atto di terrorismo è eccessivo quindi se la televisione ci inonda di immagini e la stampa ci inonda di parole non sempre ben documentate sulle guerre di oggi noi dobbiamo avere un attimo di cautela e dire sì per noi sono troppe ma storicamente siamo passati da un novecento che ha visto due guerre mondiali un po' meno di cento milioni di morti tutta l'Italia e metà Francia annichillite l'equivalente cento milioni siamo passati da cinquant'anni di guerra fredda che ha avuto un enorme costo che non è stato niente affatto una lunga pace e oggi in cui la situazione è oggettivamente migliore nel complesso dei trent'anni ma come storici noi non consideriamo il periodo post-bipolare un tutto unico questi trent'anni hanno avuto alcune fasi molto brutalmente schematicamente ve ne suggerisco tre la prima fase che potremmo dire la fase della fiducia la seconda fase che potremmo dire degli insorti problemi e la terza fase di nuovo la crisi la prima fase quella della fiducia copre quasi tutti gli anni 90 dal 1991 al 1998 grosso modo il 98 è l'anno della guerra non della prima guerra nei Balcani ma della guerra del Kosovo quando interviene la Nato è cosa diversa che nei Balcani si scannino le popolazioni e gli stati staterelli balcanici rispetto a quando in quel tipo di scontro interviene un'organizzazione militare l'unica grande organizzazione militare del tempo e dell'oggi che è la Nato perché il tempo della fiducia perché in quel decennio in quel quasi decennio beh insomma c'era la fiducia come ha accennato Luca Baldi sarà prima che finita la guerra fredda arrivasse un tempo di pace sono gli anni quelli in cui una presidenza degli Stati Uniti democratica illuminata ma quella di Clinton seda le vecchie pulsioni statunitense verso l'organizzazione del mondo e sembra quasi dare il passo o a quanto meno affiancarsi ad una illuminata gestione da parte delle Nazioni Unite è il decennio delle Nazioni Unite è il decennio in cui si pensa che le varie conflittualità mondiali possano essere risolte dalle Nazioni Unite tutte ci abbiamo creduto in realtà abbiamo visto che questo non è stato sufficiente ad esempio nel 98 non è casuale quello che io vi dico il decennio finisce con il 98 avrei potuto dire il decennio finisce 1991 con il 2001 ma io sono convinto che l'atto terroristico dell'assalto alle torri non è l'inizio di un periodo diverso era già iniziato prima segnatamente secondo me intorno al 98 certo è che tra il 98 il 2001 le torri e il 2008 l'anno della grande crisi economica internazionale in quel decennio lì la fiducia è appassita non a causa del terrorismo internazionale come si dice di matrice islamista ma perché la guerra ha cominciato a riprendere in forme varie il Kosovo il terrorismo e poi c'è l'Afghanistan 2001 e poi c'è di nuovo l'Iraq 2003 la guerra ha cominciato a sembrare ad alcuni un mezzo per risolvere i conflitti cioè i problemi c'erano e qualcuno ha pensato di risolverli con la guerra sino alla grande crisi economica del 2008 che vi ricordo è considerata non inferiore o forse solo inferiore alla crisi enorme del 1929 quindi uno spartiacque per tutto il mondo che ha avuto in varie parti del mondo diverse messe in pratica ma che è un enorme spartiacque e già in quel periodo c'erano alcune potenze regionali diciamo così non la grande potenza internazionale degli Stati Uniti ma potenze regionali che hanno cominciato ad alzare un po' la testa alcune quelle che conosciamo anche oggi la Corea del Nord che si arma nuclearmente la Russia che non è più la Russia in ginocchio degli anni 90 ma la Russia che tenta di rimettersi in piedi con Putin l'Iran e il terrorismo internazionale che si localizza in alcuni punti del Medio Oriente queste varie potenze regionali non accettano il mondo come era stato organizzato dopo il 1991 non accettano le Nazioni Unite non accettano il ritorno alla pace non accettano gli Stati Uniti ma non accettano tendenzialmente una soluzione pacifica dei conflitti bene però erano ancora disperse nel mondo erano problemi che c'erano già o che si ripresentavano che assumevano anche la forma di guerra ma non erano quello che succederà dopo la terza fase di questo post-biporalismo le nuove vecchie crisi dal 2008 invece sono nettissime Putin nel 2008 si lancia contro la Georgia nel 2014 si prende un pezzo dell'Ucraina la Crimea che è come per intenderci se San Marino conquista Rimini si prende un pezzo dell'Italia oppure che l'Italia si prende un pezzo della Carinzia un pezzo dell'Austria cioè una rottura dell'ordine internazionale non inferiore alla rottura dell'ordine internazionale che Saddam Hussein aveva realizzato nell'estate 1990 prendendosi dall'Iraq il Kuwait e non è finita lì perché Putin in quegli anni sedava con la guerra con le armi i problemi interni la Cecenia eccetera ma dal 2008 in poi non è solamente Putin che fa questo e non lo fa solamente in Russia perché interviene anche in Siria interviene in tante altre realtà di crisi nell'estremo oriente la Nord Corea fa quello che fa la Cina grande potenza economica ormai comincia a ritenere una parte della Cina non tutta una parte della dirigenza cinese ritiene che possa che sia giunto il momento di risolvere con la forza il nodo gordiano di Taiwan e tante altre crisi non ultime le turbulenze del Medio Oriente che non si erano mai non si erano mai nascoste aggiungo che noi parliamo di queste perché queste sono all'ordine del giorno ma se pensate alla guerra che si è trascinata in questi anni in Congo in Nigeria in tante parti del mondo ecco vedete che nel terzo decennio post bipolare come diceva Luca la guerra è stata sdoganata formalmente e sostanzialmente quindi non abbiamo un unico post bipolarismo ma abbiamo un unico post bipolarismo che ha scandito in tre fasi io vi ho proposto questa e queste tre fasi si segnalano per alcuni caratteri costanti rispetto al periodo guerra fredda e rispetto ad ognuna delle tre fasi strutturale è l'indebolimento degli Stati Uniti nel 1945 la potenza industriale degli Stati Uniti era la metà del mondo adesso è a malapena un terzo un quarto con in più il fatto che gli Stati Uniti sono pesantemente indebitati con la Cina perché i bot diciamo il debito pubblico statunitense se lo compra la Cina quindi indebolimento strutturale degli Stati Uniti indebolimento strutturale dell'Europa leggevo proprio giornali oggi che demograficamente l'Europa oggi conta sul 6% della popolazione mondiale e nel 2050 70 coserà conterà per il 4% anche se siamo nati a Bergamo anche se siamo nati in Italia anche se siamo nati in Europa non pensiamo di essere l'ombelico del mondo perché anche Lorenzo giovanotti si fa male e anche chi canta dall'ombelico del mondo può sbagliare ecco diciamo quindi indebolimento strutturale dell'ONU perché di fronte a questi conflitti essendo organizzato come era organizzata la seconda guerra mondiale cioè con un consiglio di sicurezza al cui interno si edono le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale più qualcuno ogni tanto si alterna quel tipo di organizzazione impedisce che l'ONU possa prendere misura possa prendere azione perché se deve intervenire in un conflitto in cui è impegnata la Russia la Russia mette il veto e non si fa niente se deve intervenire su qualcosa in cui è implicata la Cina la Cina mette il veto gli Stati Uniti mettono il veto un giorno sì un giorno sì quindi diciamo l'ONU del dopo 1998 1998 non riesce a fare non è che non vuol fare o diventare una cosa inutile di per sé come dicono gli amanti della guerra è stata messa in condizione di non nuocere o di non fare indebolimento è l'Unione Europea l'Unione Europea avrebbe potuto essere nell'insieme se fosse Stato Unito un grande attore ma qui a parte qualcuno ne esce la Brexit poi ognuno fa a testa sua già negli anni 90 e 2000 adesso che dopo la crisi del 2008 viviamo una lunga ondata sovranista populista nazionalista è evidente che ci sono quelli che dicono l'Europa non serve a niente e lo dicono esplicitamente membri penso a Lugheria che ha voluto entrare nell'Unione Europea però vuole prendere solo i soldi e non impegnarsi per l'Europa e chi invece lo dico da storico non da cittadino chi sostiene a parole di essere molto europeista poi quando gli telefona l'ambasciatore del Katonga dice no ma l'Europa non mi ascolta quindi è di fatto un anti-europeista sotterraneo non si impegna per l'Europa aspetta che l'Europa faccia e quindi diciamo così non aiuta l'Europa nell'insieme quest'ultimo decennio è fatto da tutti questi indebolimenti che vi dicevo Stati Uniti ONU Europa e allora è evidente che se questa è la situazione il rischio è enorme il rischio che conflitti alla periferia Ucraina Israele Palestina Nord Africa Congo Nigeria Africa Australia e non ne parliamo poi Cina Taiwan questi conflitti che in sé non sono nuovi perché sono conflitti che risalgono almeno al 1945 oggi pongono un rischio enorme oggi pongono un rischio enorme se questo è un po' un abbozzo di questo periodo postbipolare io comprendo le esitazioni del movimento pacifista o dei movimenti pacifista e qui arrivo prima ancora e me lo domandi lo dico subito io se arriviamo perché secondo me in molti cittadini del mondo non v'è la consapevolezza storica anche a grandissime linee di che cosa è stata la guerra fredda e che cosa è stato il periodo postbipolare gli sembra tutto uguale e invece non è così e se uno non ha chiaro la differenza di fasi di periodi di attori di responsabili allora si trova sempre con le proprie ideologie che qualche volta funzionano altre volte non funzionano il movimento pacifista di oggi o del novecento della seconda metà del novecento che cos'è ripeto anche qui tavolo da knick knick brandine ne parliamo per tre settimane ma in sintesi è un insieme plurale di tante ideologie di tanti modi di pensare che solo se si riconoscono l'uno con l'altro e operano assieme possono funzionare se operano ognuno per conto suo fanno una funzione di testimonianza nobilissima però che politicamente non incide i movimenti senza ritornare all'antichità i movimenti pacifisti moderni contemporanei odierni sono fili del proprio tempo del nostro tempo di questi ultimi due secoli i primissimi pacifisti moderni nascono proprio durante le guerre napoleoniche contro le guerre napoleoniche sono spesso anche reazionari politicamente vogliono ritornare al prima però vogliono la pace contro Napoleone contro la rivoluzione francese sono liberali borghesi possiamo dire un altro pacifismo viene fuori 50 anni più tardi al tempo delle guerre nazionali il nostro risorgimento ad esempio un'altra ondata pacifistica arriva successivamente è quella a cui ha fatto scena come al solito con precisione Luca Baldissara quando ha parlato dei movimenti politici di massa moderni movimenti marxisti movimenti di sinistra l'antico socialismo la seconda internazionale anche i movimenti cattolici in Italia il partito popolare Sturzo questi sono pacifismi che hanno ognuno la propria ideologia ma che sono profondamente radicati nel loro tempo badate bene noi siamo in Italia un paese al 98% cattolico fino a che la religione contava davvero tanto fino a quando tutti andavano in chiesa e abbiamo una prospettiva falsata se guardiamo allo stessa situazione dal resto dell'Europa diciamo da un'Europa che non è solamente cattolica ma è cristiana quindi anche protestante ci sono un numero molto vario di piccole sette di piccoli movimenti religiosi che hanno una rilevanza fondamentale nel costruire il pacifismo che da noi non contano tanto non li vediamo ma andate in Gran Bretagna per dire parlate dei quaccheri o con i quaccheri protestantismo radicale pacifista integrale che ha animato tante correnti del pacifismo religioso o i memoniti ad esempio i memoniti sono anch'essi importanti importantissimi gran parte del pacifismo internazionale dell'ottocento non è cattolico non è socialista ma è appunto quacchero o menonita e poi dopo la prima guerra mondiale ovviamente c'è un altro pacifismo ancora pacifismo forse più politico per un verso un pacifismo più radicale Gandhi nel 1919 lancia in India la prima grande campagna di resistenza e di non collaborazione con l'imperialismo inglese cioè si oppone all'imperialismo inglese ma non prendendo le armi contro gli inglesi che comandavano in India scende in piazza ma a mani nude ed è una cosa straordinaria che in vent'anni il movimento indiano di indipendenza riesca a raggiungere l'indipendenza dall'India dalla Gran Bretagna sostanzialmente senza guerra quindi quest'altra corrente dopo la prima guerra mondiale di mai più dopo la prima guerra mondiale di mai più le guerre una parte delle quali è gandiana non violenza radicale e poi ancora un'altra corrente dopo la seconda guerra mondiale le bombe atomiche sull'Oshima e Nagasaki un altro pacifismo antinucleare durante la guerra fredda un'altra ondata pacifista un'altra corrente pacifista che può essere può sembrare più tecnologica quella del controllo delle armi quelli che vanno a contare quanti armi atomiche hanno l'Unione Sovietica gli Stati Uniti dice disarmiamo il pacifismo dei grandi accordi internazionali che aiutano enormemente a ridurre la pericolosità della guerra fredda a deescalare nel frattempo siamo al tempo della guerra fredda c'era stata la società delle nazioni c'era stata le Nazioni Unite un'altra corrente pacifista diciamo pacifismo internazionalista che spera che la pace avvenga oggi grazie all'intervento delle istituzioni internazionali delle grandi organizzazioni internazionali mandate l'ONU mandatele i caschi bianchi e quelli faranno la pace o perlomeno si interpongono tra le forze guardate quanti filoni quanti correnti del movimento pacifista tutti questi come una corda funzionano se sono legati assieme se si intrecciano l'uno con l'altro da solo raramente hanno un effetto quanti di questi filoni con la fine della guerra fredda ha consapevolezza vera profonda che un mondo è finito quanti di questi pacifisti capisce nei trent'anni periodo post bipolare che la guerra sta cambiando le guerre cambiano che la situazione politica cambia che la stabilità non è più data anche se è la stabilità del terrore al tempo della guerra fredda dello sconcio atomico quanti hanno o dico così studiato la storia purtroppo pochi allora a mio avviso e su questo chiudo questa parte io capisco così sarà è una deformazione professionale diciamo lo storico pensa che gli altri vedano il tempo come lo vede lui o deformazione professionale si accorge che gli altri non lo vedono come lo vede lui e dice ma c'è un problema c'è del marcio in Danimarca ma se i pacifisti di oggi nelle loro varie gradazioni e sfumature possono essere laici possono essere religiosi come il Papa cattolico che dice siamo in una guerra mondiale a pezzi i pacifisti internazionalisti che si fidano dell'ONU quanti di questi si rendono conto che la situazione è cambiata storicamente che ha bisogno di nuove risposte di risposte adeguate al proprio tempo perché se oggi riproponi lo scontro per esempio Est-Ovest in quante manifestazioni odierne pro-Palestina io leggo la mentalità binaria Est-Ovest sembrano cose della guerra fredda andavano bene quando c'era la guerra fredda ma oggi come ci dice il professor Baldissana la situazione è più complessa è più intricata o d'altro canto chi non si è accorto che il problema russo era un problema enorme ma non è che bisogna aspettare il 2022 il febbraio 22 per accorgersi bisognava accorgersene nel 2014 nel 2008 e forse anche prima alla fine degli anni 90 quando punti in sala al potere se uno non si accorge di queste cose se non sa queste cose ha una reazione immediata o nobile umanitaria onesta chi ha paolo e dice il nemico è lui l'errore è lui forse la situazione è più complessa perché la storia è stata più complessa quindi io alla domanda di fondo quella dei 100 milioni che so non credo che oggi guadagnerò con disappunto ovviamente visto anche il mio cognome diciamo credo che ritornare a capire cosa sono stati questi tre decenni e come essi si sono differenziati dai cinque decenni precedenti che cosa è stato il postbipolarismo e come esso è cambiato rispetto alla guerra fredda per non dire ancora il passato precedente capire questo forse aiuterebbe anche ad un'azione nell'oggi e nel domani più adeguata ripeto non chiedetemi soluzioni tutti i problemi e ciò col passato mi bastano mi avanzano ma credo che avere ben presente la prospettiva in cui uno si situa aiuterebbe anche ad evitare errori cioè la riproposizione odierna di schemi mentali del passato perché un esempio su tutte i generali della prima guerra mondiale i generali dell'agosto 1914 pensavano che il giorno dopo quando fecero la guerra quando avrebbero fatto la guerra sarebbe stata la guerra che c'era prima la guerra napoleonica la guerra di movimento la guerra delle grandi avanzate e in due o tre mesi il generale Cadorna avrebbe assicurato arriviamo a Lubyama e arriviamo poi a Vienna sono voluti cinque anni di guerra dieci milioni di morti e la soluzione poi alla fine è stata più politica che militare più economica che militare ecco avere chiarezza bene dove uno si trova a seguito di che cosa si trova in quali grandi correnti si trova aiuta ad evitare di riproporre la guerra del passato o le soluzioni del passato grazie potremmo andare avanti un altro paio d'ore ma immagino che invece tendiamo alla chiusura e siamo pronti per le domande naturalmente c'è Michele ma ti anticipo io questa volta Michele ma suppongo che ce ne saranno diverse perché mi sono sentita appunto sul vivo da quest'ultima parte dell'intervento del professor per la banca come per il mio attivismo pacifista militanza ripeto in questo caso è sbagliata come parola perché mi sembra che le critiche al movimento pacifista siano un po' ingenerose le rivolgerei esattamente alla politica esattamente nella logica con cui le proponeva Luca Baldissara mi sembra che la logica binaria la logica di chi non ha compreso il cambiamento di chi sposta continuamente su una logica amico-nemico sia quella della politica non quella dei movimenti pacifisti che peraltro forse sono d'accordo con l'indicazione che solo l'intreccio di tutti i movimenti pacifisti potrebbe avere la capacità di avere come dire una forza di visibilità che oggi non hanno ma forse c'è un problema di gestione della comunicazione politica della comunicazione e del dibattito pubblico che rende veramente molto difficile di panare un discorso che stia fuori dalla logica binaria lo vediamo oggi in modo drammatico è stato lacerante nella guerra in Ucraina ma lo è stato anche prima in tutta questa ultima fase dei 30 anni post fine della guerra fredda quando bisognava essere sempre quando bisogna usare troppi aggettivi per definirsi c'è qualcosa che non va prima di poter dire che sono contro a qualcosa devo dire che però sono a favore di questo di quell'altro di quell'altro non mi pare un problema nei movimenti pacifisti ma mi pare un problema della politica Michele prego allora io avrei due rapidissime domande la prima è che i conflitti di questi ultimi anni prima ancora che di quelli del fine 45 a oggi soprattutto questi degli ultimi anni per alcuni versi somiglino un po' al modo in cui si è arrivati e poi in cui si è svolta la prima guerra mondiale cioè una progressione lenta un arrivo uno scoppio per qualche verso inaspettato e anche alcune operazioni militari che per molti versi si sono svolte in maniera analoga si vede il tipo di operazione che è riuscito a svolgere Hamas partendo da Gaza che ha qualche affinità col modo in cui gli austro-tedeschi riuscirono a sfondare a caporetto ma quella è un'altra questione ebbene durante la prima guerra mondiale ci fu un momento di svolta in cui chi si contrappose a questa guerra trovò il modo di farsi sentire fu in un certo senso la rivoluzione russa che iniziò come noto con i soldati che abbandonavano il fronte oppure fraternizzavano col nemico e poi con la concezione bolshevica ma anche anarchica che semplicemente predicava guerra alla guerra questo portò alla nascita delle sia pure per paura per reazione delle diverse istituzioni internazionali subito dopo ebbene considerato il fatto che non è vero comunque che non ci siano state azioni pacifiste anche qualche volta di grandi dimensioni come lo sciopero dei ferrovieri ad Atene l'anno scorso durato un mese come mai oggi il movimento pacifista comunque non riesce a farsi sentire cioè c'è però è come se non esistesse anche per i nostri mezzi di comunicazione e poi un'altra è una breve valutazione si è visto recentemente con i tre colpi di Stato in Niger in Burkina Faso e in Mali che l'Africa in un certo senso è tornata alla ribalta ebbene consideratela dal 45 ad oggi il continente africano con le sue guerre deve essere considerato una semplice retrovia dei conflitti che affliggono il mondo cioè più conosciuto oppure una una linea essenziale una linea essenziale attraverso cui essi passano se ce ne sono ancora ne raccogliamo queste due per poi dare il tempo no sto calcolando i tempi di resistenza prego sì una domanda molto semplice i riferimenti a Clausewitz mi sembravano importanti ma è come se si passasse la palla dalla politica ai militari nella prosecuzione della politica con altri mezzi in realtà penso che anche i militari nelle loro azioni debbano rispondere a delle scelte politiche le deterrenze la scelta dei mezzi se no noi avremmo già delle bombe tattiche nucleari lanciate per distruggere il nemico in Ucraina per esempio ecco mi piacerebbe che ci fosse una risposta a questa domanda grazie prego professor Pinotti grazie buonasera volevo chiedere a voi non sembra però che la guerra se è prosecuzione della politica sia fatta prima di tutto dalla politica cioè dalle parole della politica ne dico due a caso radiose giornate di maggio una guerra che nessuno voleva che è diventata un fenomeno di massa voluto da masse che non esistevano e non so armi di distruzione di massa col segretario della difesa che agitava una provetta di non so che cosa dicendo questa è un'arma biologica e sapendo di mentire io penso che certo ci sono delle responsabilità militari chi uccide dei civili e sgota dei bambini ha delle responsabilità chiarissime e la colpa è solo sua però io credo che ogni guerra sia preparata lungamente dalle parole che si sceglie di dire o che si sceglie di non dire e quando si parla di pacifismo afono è prima di tutto perché le parole diverse non hanno trovato una strada non sono nei tg non sono nei giornali ripeto d'annunzio ha fatto sembrare che la guerra la volesse tutto il popolo era una menzogna colossale gli sono bastate poche decine di amici nei giornali e nelle università e nei partiti politici per capovolgere la realtà grazie non vedo altre mani sì è qui no io volevo invece chiedere quanto magari al giorno d'oggi essere pacifista è pericoloso anche dal punto di vista dell'opinione pubblica nel senso che faccio un esempio che spero di non abbassare troppo il livello culturale però lo zero calcare di turno che diserta Luca Comics perché per scelta pacifista l'ha spiegato oggi bene sulle pagine dell'internazionale risulta invece poi finisce l'agonia mediatica e quindi magari è pericoloso anche essere pacifista visto che sono vicino ne approfitto per quanto riguarda il discorso che si è fatto prima la politica è vero è mancata clamorosamente ma quello che è mancato in modo drammatico è la incapacità di risolvere le differenze le differenze economiche diciamo di qualità della vita fra popolazioni c'è gente che vive ancora da decenni in condizioni totalmente quasi miserabili i soldi sono stati dati ma sono finiti nelle mani o di corrotti o di piccoli gruppi che si sono arricchiti però le differenze del mondo sono rimaste ancora calamorosamente enormi inaccettabili e su questo si è fatto poco per migliorare questa situazione poco o niente ok direi che abbiamo un buon panorama di questioni e quindi diamo prima la parola al professor Labanca va bene solo al professor Labanca d'accordo in fingardo professor Baldissara allora io penso che uno studioso lo storico se non è scomodo a che serve cioè se ci aiuta e ci conforta allora facciamoci confortare in chiesa in sezione se sappiamo già tutto allora è evidente che non c'è bisogno dello storico perché sappiamo già che bisogna abbiamo diciamo uno specialista per modi quindi io penso che lo specialismo c'è ed è utile fino a quante urticante se non lo è non serve a niente così questa è una premessa generale io ho forse detto che è solo colpa del movimento pacifista questo non l'ho detto sono partito dicendo che la guerra è politica fatta con altri mezzi quindi è evidente che le guerre le fanno la politica non credo i movimenti pacifista fanno la guerra non l'ho mai detto ed è anche difficile pensarlo quindi è chiaro che il fuoco della critica è sulle politiche sui governi perché sono loro che decidono sia quando sono governi stabiliti statuali decisori della politica sia quando sono attori non statuali uno dei grandi cambiamenti della guerra diciamo dei sistemi delle guerra fra il periodo guerra fredda e il periodo post guerra fredda è che nel periodo della guerra fredda il grosso dei conflitti era voluto dagli stati anche se vi ricordate quelle curve a cui ho fatto riferimento già durante il periodo della guerra fredda tra le guerre degli stati e le guerre negli stati cioè le guerre civili le guerre fatte da attori non statuali c'è stata un'enorme crescita nel periodo successivo alla guerra fredda le guerre fra gli stati sono numericamente insignificanti sono quasi tutte guerre civili sono guerre dentro gli stati o fatte da attori non statuali l'Isis ad esempio è un attore non statuale terrorismo che si fa stato è un attore non statuale se uno non ha chiaro questo è chiaro che si trova sbalestrato nel giudicare la realtà e quindi può vedere la reazione di un movimento politico anzi l'azione la scelta consapevole di un movimento politico di fare terrorismo internazionale come una scelta di uno stato invece è cosa diversa però è la politica comunque questa sia statuale o non statuale che fa le guerre certo non i movimenti pacifisti quindi questo penso che sia importante avere in mente se uno non ha chiaro il quadro in cui si muove può darsi che la zecca quanti di noi sono andati a Luna Park e hanno tentato lanciando il cerchietto di acchiappare il collo della cos'è della paperetta del cigno eccetera qualche volta ci dai ma casualmente se non hai ben chiaro che statisticamente quel tipo di gioco è fatto per fregarti i soldi perché statisticamente è difficile acchiappare il collo del cigno se uno non ha chiaro il contesto storico l'evoluzione dove si trova può darsi che qualche volta ci dà ma più spesso casualmente non ce l'hai non è che colpa sua è un dato di fatto che in quel momento quel movimento non dà la soluzione giusta o detto in altre parole quel movimento non mobilita i cittadini e le cittadine nel numero sufficiente per imporre una soluzione giusta ma semplicemente perché non sai in che mondo sta non è che questo succeda sempre ad esempio contro la guerra in Iraq 2003 quando l'occidente si è spaccato con alcuni stati a favore di quella guerra e alcuni stati europei segnatamente Francia e Germania che hanno detto no noi quella guerra non vogliamo farla e non è che erano meno occidentali o meno democratici ecco in quella situazione in cui la politica occidentale si è spaccata e il movimento pacifista è riuscito a mobilitare grandi masse nella manifestazione politica forse più grande del pianeta quantitativamente anche più grandi delle grandi mobilitazioni della seconda internazionale per le sue prese di posizione quindi forse il 14 il 24 febbraio 2003 nel febbraio 2003 ci sono state una serie coordinata di manifestazioni contro la guerra in Iraq che sono andate dagli Stati Uniti all'Europa all'Asia e sono tornate dagli Stati Uniti cioè tutto il mondo si è mobilita vuol dire che in quel caso il movimento pacifista aveva capito bene qual era la situazione se non mobilita se non ottiene risultati difficile dire che è la colpa degli altri mi ricordo un politico italiano che diceva ma io l'ho detto però mi hanno frainteso oppure è una colpa della comunicazione la colpa è della politica del movimento pacifista e non ha trovato che non sapendo dov'è non ha trovato la situazione giusta che non vuol dire che la colpa sia sua la colpa di aver fatto la guerra è certamente di altri però non riuscendo a mobilitare vuol dire qualche problema se non è un grande marcio un piccolo marcio in Danimarca è stata ricordata l'Africa quello mi sembra uno dei punti fondamentali uno dei punti che adesso non si vedono tanto ma che rischiano di andare in ebollizione forte e per adesso sono in ombra rispetto ad altri conflitti che sono latenti ma se si muove un conflitto anche lì il problema potrebbe non essere secondario questo concordo sul fatto che poi diciamo un'azione terroristica di 120 che hanno avuto una loro scelta politica ci mancherebbe altro ma che di fatto tecnicamente si possono dire assassini diciamo così che quello sia l'infiltrazione come Roma e la Caporetto forse avrei qualche difficoltà ma certo diciamo così l'Africa è un punto molto delicato altri interventi hanno messo in evidenza penso a quello che io avevo provato a dire se sono riuscito a spiegarmi se poi non sono riuscito è chiaro ho fallito ma è evidente che è la politica che decide chi fa le guerre e che i militari obbediscono poi i militari obbediscono con quelle forze che hanno quanto più il regime è democratico quanto più i militari sono costretti e sono al controllo al rendiconto e sono controllati dai civili quanto meno il regime è democratico quanto più i militari si muovono per conto loro oppure seguono le derive politiche di governanti che vogliono la guerra e quindi ne sono consentanti quello che io volevo osservare è che spesso dentro il movimento pacifista c'è una risposta che forse in alcuni momenti storici aveva ragione d'essere ma che poi è diventata una facile scusa che la colpa delle guerre sono i militari è evidente che diciamo le scarpe rotte sono il mestiere del calzolario ma le guerre non sono responsabilità in genere nel complesso dei militari ripeto le guerre sono sempre politiche svolte con altri mezzi poi è chiaro che i militari possono qui e là aggiungere un peso ma le guerre non ci sono perché ci sono le armi le guerre ci sono perché ci sono i governi che utilizzano le armi e i militari per fare delle politiche la responsabilità primaria non sono né i militari né le armi ma sono le politiche ho provato a dirlo dall'inizio sono molto d'accordo con chi alla fine ha osservato che si fa poco per risolvere le differenze economiche del mondo sono molto d'accordo il divario economico internazionale fra i paesi e fra i continenti non sta crescendo anzi diciamo tendenzialmente sta diminuendo però è ancora enormemente ampio il divario più o meno come in questi 30 anni chiamiamoli post bipolari chiamiamoli i 30 anni della globalizzazione si è molto ampliato il divario dentro le nazioni dentro gli Stati Uniti il divario tra il più ricco e il più povero il quintile più ricco e il quintile più povero è molto aumentato rispetto al 1989 rispetto al 1973 quindi i divari aumentano la gestione dei divari dovrebbe essere a compito della politica sia interni che internazionali all'interno dovrebbero pensarci i governi a livello internazionale ci dovrebbero pensare l'organizzazione delle Nazioni Unite e invece di fronte a questi divari o nel contesto di questi divari che crescono in genere negli ultimi 30 anni ma in particolare dopo il 2008 dopo la grande crisi economica attori politici consapevoli hanno aumentato la soluzione la proposta della soluzione la guerra che sia la guerra regolare degli stati che sia la guerra terroristica che sia la guerra in spregio delle convenzioni internazionali mi acchiappo la Crimea ecco dopo il 2008 noi vediamo nel mondo il crescere di questi di queste soluzioni militari al problema dei divari fra le nazioni fra i continenti all'interno delle nazioni all'interno dei continenti e questo è il problema storico di lungo periodo e qui il problema della politica non basta dare la colpa ai militari non basta dare la colpa alle armi o non basta dire ma la RAI ce l'hanno loro io come faccio a esprimere le mie ragioni perché qualche volta le proprie ragioni non sono all'altezza dei tempi in cui si vive e questo non è colpa di nessuno non è quella la colpa del fatto che poi ci sono le guerre ma se questo divario scè fra le idee le proposte di soluzione eccetera i movimenti pacifisti non incidono badate bene storicamente la storia dei movimenti pacifisti è difficile farla come una storia di conquiste e di vittorie la storia dei movimenti pacifisti è purtroppo una storia di sconfitte sul breve periodo la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale sul lungo periodo però uno studioso statunitense si chiama Stephen Pinker ha detto che e ha provato a contare e ha detto che in fondo sul lunghissimo periodo gli uomini e le donne diventano più umane diventano meno favorevoli a ricorrere alle guerre possiamo dirla così diventano più buoni sul lunghissimo periodo un economista di un certo rilievo come Lord Keynes disse che le soluzioni sono importanti sul momento sul lungo periodo siamo tutti morti i dati che Stephen Pinker ha messo è un libro tradotto in italiano quindi se volete potete leggerlo sono stati un po' discussi però è interessante questa prospettiva per cui forse i movimenti pacifisti non sempre sono riusciti a trovare la posizione giusta ma nel complesso l'umanità è sulla strada buona peccato che lungo la strada buona ogni tanto c'è qualche problema pesante grazie diciamo che ci piace farci provocare e urticare per cui grazie professor La Banca grazie a Luca Valdissara mi preme come dire sottolineare che il nodo guerra politica che come dire è stato scolpito come la questione che va affrontata è poi il cerchio intorno al quale abbiamo girato nel corso dell'anno scorso e che continueremo in questo con l'incontro finale di nuovo con Nadia Orbinati vi ricordo che venerdì prossimo siamo alla porta con la professoressa Marina Lalata Costerbosa su donne e bambini nella guerra e che il corso prosegue nella sala della porta che man mano metteremo le registrazioni delle lezioni sui nostri siti e che vi ringrazio di essere stati qua e ci vediamo venerdì prossimo grazie grazie